Ciao amici, siamo al Tabù, Eleonora e Dario, andiamo a bere il caffè, seguiteci! Seguiteci, seguiteci! Seguiamo la strada! Ci siamo quasi! Sicurezza eh! Dale! Siamo direttamente su Youtube! Andiamo al Tabù, certo! Prendiamo un bel caffè! Due? Ciao amici, sempre con Dario e Eleonora! Vi presentiamo il dirgiocchi che mi fa il caffè! Prego, presentami! Luca! È un dirgiocchi che fa il caffè ma deve essere buonissime! È inizio serata, per cui qui ci arrangiamo! Riprendi chi fa il caffè però Luca? Buon sera! Buon sera! Buon sera! Buon sera! Buon sera! Buon sera! Siete voi stasera? Sì! Ah, proprio voi! Ciao! Tutto a te? Come va? Guarda le mani! No io no, io sono solo regista per adesso! E per adesso sì, purtroppo hanno rilegato questo! Grazie! Bene! Finiamo dopo allora! Vediamo! Molto elegante! Riprendi la mia amica! Certo! Amica spagnola! Abra il spagnolo! Sì sì, io abro il spagnolo come una vacca francesca! Bene! È uguale! Molto bene! Molto bene! Molto bene! Mi ha scoperto! Mira che non sei una vacca francesca! Spagnola proprio! Mi è fatta il toro! No! Ha comprito! Ha comprito todos! Ha comprito todos! Ha comprito todos! Quasi! Meno male! Abbiamo un caffè! Tutto anche mentre bevete? Certo, certo! Tutto! Tutto! Ma ormai io lo guardo! Sì, ma non paga niente! Cioè non è che... Ovviamente... I biglietti! Sì! I biglietti! I biglietti! I biglietti! Si! Allora... Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Certo! Buono! Buono! Rossi! Come io sono nata alla dolce! Sì! Molto! Calubile! E non c'è nessuno per sta più di inizio? E allora... Facciamo così... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Che buono! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn Invita proprio alla beva! che buono! Si! Mi voglio di berlo proprio! Aspetta se lo beviamo. Il bello è che fatto che buono l'ho ancora mandato giù. E Dario come va? Buonissimo, penso che stiamo scherzando Luca. No non credo che stia scherzando. Che poi Luca grazie. Facino Luca. Grazie è veramente il più bravo DJ barista mai visto però adesso ha mangiato la bistecca di cavallo. No non era di cavallo, come stai che ha mangiato? Di manzo. Di manzo allora ancora ancora va bene dai. Il cavallo? Il cavallo ne mangio io, mi piace troppo figlio. Grazie amore ci danno dopo. Da davanti ancora? Seguitevi certo. Certo fino a là. E' proprio troppo lungo amore. Carica troppo YouTube, sovraccarica YouTube. Ricordo la prognosi. La prognosi eh? Tutti in pista eh? Come la prognosi? Mi raccomando eh. Non confonderti più con la scimmietta come l'altra volta eh. Ci siamo? Molto bene amici, salutiamo Tarietto. Ciao. La nostra serata inizia, un bacione. Ciao.